Siamo con il dottor Stefano Buccini, sostitutore procuratore a Venezia e membro della giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Un trentatresimo congresso nel segno dell'unità, pluralismo ma coesione. Sì, abbiamo articolato il congresso su sette sessioni, abbiamo affrontato tutti i temi all'ordine del giorno più importanti, ha avuto un'ottima partecipazione il congresso, siamo soddisfatti come giunta per quanto abbiamo organizzato e per la risposta che abbiamo avuto dai colleghi. Il tema di questo congresso, i nuovi diritti sono stati al centro? Sì, la magistratura vuole essere al passo con i tempi, lo vuole essere quando sugli argomenti che pone al centro del suo dibattito, sempre in modo rispettoso però delle prerogative degli altri poteri dello Stato, in particolare del Parlamento, laddove questi nuovi diritti hanno necessità di una fissazione normativa prima ancora di una applicazione da parte delle corti, dei giudici. Registriamo lo Stato di salute della giustizia italiana, secondo lei qual è la priorità? Dunque, Stato di salute della giustizia è una parola grossa, la giustizia si dibatte su difficoltà grandissime di mezzi, di risorse, lo sforzo che sta facendo l'Associazione Nazionale Magistrati e la magistratura è quella di ottimizzare al massimo le poche risorse disponibili e ponendo al centro del proprio dibattito il tema dell'organizzazione, della razionalizzazione e dell'interlocuzione con gli altri poteri in modo tale che possano essere comunicate le difficoltà e possano essere risolte nella sede propria legislativa. Che cosa ci aspetta per il prossimo congresso? Ecco, il prossimo congresso sarà tra due anni, troppo presto per dirlo, non possiamo chiudere come si chiude ogni Olimpiade o i campionetti del mondo dandoci appuntamento in un'altra sede, lo vedremo nel prossimo anno. Molte grazie.